Per chiudere la voragine a Orciano c'è la copertura finanziaria, lo annuncia il consigliere regionale Federico Talè che sul crollo della strada provinciale 5 bis all'altezza di via Kennedy ha presentato prima un'interrogazione e poi una mozione seguendo passo passo gli sviluppi della vicenda fin dallo scorso 2 ottobre. E' stata creata così una sinergia tra enti e istituzioni capace di trovare uno sbocco per risolvere l'emergenza, un impegno che ha dato i suoi frutti perché dopo una serie di incontri è stato raggiunto l'accordo per finanziare il progetto di ripristino della viabilità. Ieri si è svolta la seconda terza assemblea pubblica che abbiamo fatto a Orciano, anzi ci siamo dati proprio anche un metodo quindi ci si vede tutti i mercoledì, anche il prossimo mercoledì ci si vedrà per fare una sorta di stato di avanzamento dei lavori sul tema appunto della frana. E in questa assemblea è venuto fuori proprio chiaro ma lo sapevamo in primis lo sapevo io che abito lì proprio vicino i problemi che questa frana ha dato grandissimi grandiosi perché perché comunque sia per i cittadini e quindi le famiglie per dirne una i ragazzi tornano da scuola da Fano dalle scuole superiori mezz'ora un'ora dopo e quindi i ragazzi partono alle 7 del mattino e tornano per andare a scuola alle 3 del pomeriggio e non solo Orciano ma in tutto il comprensore. Ma soprattutto le attività, i commercianti quindi i negozi. Però dopo vari incontri è stata trovata finalmente questa copertura? Sì la copertura finanziaria adesso si è trovata e per questo devo ringraziare in primis il governatore Ceriscioli il nostro presidente della regione perché è stato lui che si è preso a cuore la situazione sollecitato dal sottoscritto naturalmente e insieme al presidente della provincia e insieme a Tibiroli l'amministratore delegato di Marche molti servizi hanno raggiunto per ora verbalmente questo accordo che nei prossimi giorni dovrà essere scritto. Quali sono ora i prossimi passi? I prossimi passi importanti e cruciali e quindi è questo diciamo l'obiettivo quello di far partire nel più breve tempo possibile l'appalto, la gara d'appalto e quindi l'inizio dei lavori.